Sì, è aperto il sotterraneo di Santa Croce, cerimonia di inaugurazione al termine dei lavori finanziati da Regione e Fondazione Cassa di Disparmio di Lucca. Strada per Calomini bloccata da una frana, disagi per i residenti del piccolo paese nel comune di fabbriche di Vergevoli. Diereggio, omicidio, Iacconi, sorveglianza speciale per il principale indagato che nel novembre scorso era stato protagonista di un'altra violenta aggressione. Segnali positivi dalle imprese lucchesi, a dirlo sono i dati di Confindustria Toscana Nord, relativi ai bilanci 2014 delle società di capitali manifatturieri. Sport contro l'Ancona per ripartire sabato in campo per la nuova lucchese targata Valdini, tanti interrogativi sull'undici titolare. Ok, il Cgc subito fuori dalla Coppa Italia. Viareggio battuto dall'Odi 4 a 3 nel quarto di finale della Final Eight, in corso di svolgimento a Forte dei Mari. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi, quindi sono stati inaugurati tre sotterranei delle mura urbane di Lucca al termine di una serie di lavori resi possibili sia dall'intervento della Regione Toscana che anche da quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Vediamo il servizio. Inaugurazione ufficiale del sotterraneo del Baluardo Santa Croce, in via delle Conce, nel quartiere Pelleria. Dopo un intervento iniziato la primavera scorsa e che ha interessato anche i sotterranei San Paolino e San Martino, finalmente si è potuto ammirare anche il restauro di questo sotterraneo cittadino. L'opera è stata possibile grazie a finanziamenti di Fondazione Cassa di Risparmio in Regione Toscana, che ha contribuito con 2 milioni e 500 mila euro. Presente all'inaugurazione, la vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla cultura, Monica Barni. Sì, è un'opera sulla quale la Regione Toscana ha investito molto perché ha creduto e soprattutto perché si tratta di un intervento che va a completare altri interventi. Un intervento sistematico di recupero, risistemazione, rivalorizzazione delle mura di Lucca dei suoi sotterrani e per restituirli alla città. I lavori hanno riguardato la ripulitura del paramento, la realizzazione di pavimentazione in terra armata, l'installazione di un impianto elettrico a LED e di un impianto di videosorveglianza. In particolare nel sotterraneo Santa Croce è stata riportata a vista la pavimentazione cinquecentesca in acciottolato di fiume e lastricato di pietra, la canaletta in pietra è cotto lungo il perimetro dei vari locali e quattro pozzi di svenaggio dell'acqua. Noi le conosciamo dall'esterno, finalmente i lucchesi e le mura sono dei lucchesi, soprattutto dei lucchesi perché è il monumento che più li identifica sicuramente. Bene, da ora in poi i lucchesi potranno vedere anche dall'interno, potranno vedere proprio il cuore delle mura, come erano, come sono fatte nei baluardi, ne apriamo tre addirittura e quindi questa è una cosa molto bella, una restituzione della città di uno spazio che finora era precluso. Per adesso il sotterraneo non è ancora fruibile come sortita, vista la mancanza di collegamento tra gli spalti e la circonvallazione, opera che verrà realizzata in un secondo tempo, grazie a 235 mila euro risparmiati per la realizzazione dell'intero lotto di lavori. Parliamo del tempo, il centro funzionale regionale ha emesso un codice arancione per piogge intense e rischio idraulico sul reticolo minore valido dalle 20 di sabato 27 febbraio alla mezzanotte ed in martedì 1 marzo. Le zone interessate sono tutte quelle nella parte settentrionale e occidentale della Toscana, quindi compresa la provincia di Lucca. Il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio in programma domenica si farà a fugare ogni dubbio sulle possibilità di rinvio per il rischio pioggia è stata la fondazione Carnevale con una nota ufficiale. In ragione delle informazioni meteorologiche localizzate su Viareggio di cui dispone la fondazione Carnevale si rassicura che non sono preannunciate né pioggia né raffiche di vento nelle ore della sfilata, così dice la fondazione. Domenica quindi a partire dalle 14.45 la diretta su rete Versilia News, canale 85 del digitale terrestre e alle 20 la replica su Noi TV. Parliamo ancora di maltempo e delle conseguenze del maltempo perché c'è stata una frana sulla strada che collega Brucciano a Calomini, quindi tra i comuni di Molazzana e Fabbriche di Vergemoli e è parzialmente isolato il paese di Calomini. Vediamo. È tornato a franare il versante della strada tra Brucciano e Calomini e stavolta lo smottamento è di notevole entità, tanto che il comune di Molazzana è stato costretto a chiudere la strada. Adesso per raggiungere Calomini nel comune di Fabbriche è necessario transitare da Vergemoli, un percorso molto più lungo e disagevole. Di fatto quindi ci sono forti difficoltà per i circa 30 abitanti di Calomini. Terra e Massi sono venuti giù in un punto dove si erano già verificate frane, travolgendo anche i geoblocchi posizionati all'autostrada, interrompendo una viabilità importantissima per la zona. È vitale perché la strada principale, più comoda, più veloce, anche nel caso debba venire un'ambulanza. Quindi anche se non è nel territorio comunale di Fabbriche di Vergemoli, per noi è essenziale che sia ripristinata. Il comune di Molazzana e i suoi tecnici si stanno adoperando insieme alla regione e alla provincia, che ho sentito personalmente per risolvere la problematica. Ringrazio i Vigili del Fuoco che sono molto attivi in questo momento. Spero che questo weekend di allarme rosso non pregiudichi ulteriormente la situazione isolando completamente l'abitato, che attualmente è servito solo da una viabilità secondaria che collega Vergemoli. Invito tutti alla prudenza in questo momento e a un pizzico di pazienza. Stiamo lavorando tutti assiduamente per risolvere il problema. A colpo d'occhio si potrebbe pensare che per riaprire la viabilità possano bastare poche ore di lavoro con un mezzo meccanico. In realtà il discorso è un po' più complesso. È la prima sensazione che tutti hanno. In realtà abbiamo fatto sopralluoghi con ingegneri, con geologhi. Il problema principale non è tanto quanto è caduto Ola, ma quanto è possibile che cada in virtù anche delle piogge. Quindi l'impossibilità di dare una sicurezza alla viabilità. Questo è il dato principale che obbliga il collega di Molazzano a tenere chiusa quella strada e mette tutti noi in apprensione. Modifiche questa sera e domani mattina al servizio di tre treni regionali sulla linea Firenze-Prato-Viareggio per completare i lavori di ripristino dell'infrastruttura danneggiata dal maltempo lo scorso 12 febbraio. In particolare questa sera i regionali Firenze-Santa Maria Novella-Viareggio e Viareggio-Firenze-Santa Maria Novella, negli orari indicati dalla grafica, saranno sostituiti con autobus tra Alto Pascio e Viareggio. Mentre domani mattina, sabato 27 febbraio, il regionale Lucca-Firenze delle 5.05 sarà effettuato con autobus nel tratto tra Lucca e Alto Pascio. Forse un colpo di sonno o un guasto meccanico sono alla base dell'incidente che nella prima mattinata di venerdì ha visto coinvolto un camion carico di carote che si è ribaltato sull'autostrada Firenze-Mare. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Firenze quando giunto all'altezza della chiesa di San Donato è uscito di carreggiata ribaltandosi. Per svuotare il rimorchio da tutto il carico e poter procedere alla rimozione del camion è dovuta intervenire una ditta specializzata in bonifiche ambientali. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo. È stato preso un provvedimento speciale a carico del principale indagato per la morte di Iacconi, il giovane che venne ucciso, che morì a seguito di un violento pestaggio avvenuto appunto a Viareggio. Vediamo il servizio. Sarà sorvegliato speciale per un anno Matteo della Ragione, uno dei due minorenni, oggi maggiorenne, indagato per l'omicidio del 34enne Emanuele Iacconi, scomparso a Viareggio nel novembre 2014 per le lesioni riportate nel pestaggio della notte di Halloween in Darsena. Il giovane, principale indagato, già nel dicembre 2014 fu sottoposto dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze alla custodia cautelare in carcere. Nell'aprile 2015 fu trasferito in comunità e poi dimesso a giugno per decorrenza dei termini. La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale di Lucca su proposta del questore sulla base delle indagini della polizia di Viareggio, a causa della condotta tenuta da ragazzo in attesa della definizione del giudizio di primo grado. Il giovane, infatti, è stato protagonista di altri episodi violenti che hanno convinto gli inquirenti della sua pericolosità sociale e indubbia capacità delinquere senza lasciar spazio, scrivono dal commissariato, ad alcun segno di ravvedimento. Nel novembre scorso fu coinvolto in una brutale aggressione ai danni di un 18enne via Reggino all'uscita di un bar a Torre del Lago. Una spedizione punitiva sorta per banali motivi su Facebook. Calci al volto e un colpo alla testa con una mazza metallica che gli hanno procurato una denuncia per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Per un anno, della ragione, non potrà uscire di casa di notte, dalle 21 alle 8 del mattino. Non potrà partecipare a iniziative pubbliche, né accompagnarsi a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza. Un provvedimento preso dalla Questura anche per esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia di Manuele Iacconi in attesa della condanna dei colpevoli dell'omicidio. Ancora segnali positivi per l'economia locale. Stavolta i dati sono forniti da Confindustria Toscana Nord. Più 1,6% dei ricavi più 4,2% del valore aggiunto sono i risultati dei bilanci 2014 delle società di capitali manifatturiere dell'area Lucca Pistoia Prato presentati nel primo report del Centro Studi di Confindustria Toscana Nord dopo la fusione. Segnali positivi che arrivano dopo anni di crisi ma che ancora non significano una vera e propria uscita dal tunnel. A commentare questi dati, a buongiorno con noi, è stato il vice direttore di Confindustria Toscana Nord Claudio Romiti. Sicuramente quando usciamo più davanti è sempre un segnale positivo e dobbiamo prenderlo con quest'ottica anche di possibilità. Si evidenzia da questo lato come alcune aziende cominciano a capitalizzarsi maggiormente e questo è legato alla crisi dei crediti che avevamo registrato negli anni precedenti. C'è da dire però che questa tendenza positiva non può essere vista in maniera uniforme, purtroppo ci sono settori che ancora non stanno recuperando, non stanno andando bene, quindi c'è una ripresa debole, lenta, a macchia di lopardo. La presenza di Romiti, presidente di Formetica, è stata anche l'occasione per parlare dei corsi di formazione promossi dall'Agenzia Formativa di Confindustria. Il 23 marzo c'è un appuntamento molto particolare con lo chef stellato Antonino Canavacciuolo. Come dicevo prima non parleremo di cucina, anche se ci sarà uno show cooking di una mezz'oretta per far vedere chiaramente il risultato del lavoro, ma soprattutto cercheremo di capire quali sono, come stavo anticipando, le chiavi per cui si possa inventare una professione, trasformare una professione da tradizionale a innovativa e diventare. Quindi si parlerà di quelle che sono le leve di marketing, le idee innovative, ma forse vorrei anche pensare alla capacità di non arrendersi mai, di trovare sempre delle esperienze nuove, delle miscele che possono far nascere nuove idee e che portano poi a quello che abbiamo visto. Raccogliere fondi per acquistare nuovi mezzi di soccorso. La Croce Verde di Lucca annuncia il nuovo spettacolo Saturday Night Fever che il prossimo 5 marzo sbarcherà al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Dopo il grande successo riscosso al Teatro del Giglio di Lucca, lo spettacolo di beneficenza Saturday Night Fever sbarca all'Alfieri di Castelnuovo. L'appuntamento in programma per sabato 5 marzo è stato presentato alla sede della Croce Verde di Lucca, promotrice dell'iniziativa, alla presenza degli organizzatori e del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi. L'obiettivo rimane quello di raccogliere contributi per acquistare nuovi mezzi di soccorso. Riprende fondi per l'acquisto di queste ambulanze, uno per la sede di Lucca, una per la sede di Coreglia e una per la sede di Guamo. Lo spettacolo diretto dal maestro V.J. Pierallini per la regia di Elisa Bertoni riprende ovviamente il celebre film degli anni 70 che lanciò l'astronascente John Travolta, ma con significati attualizzati. È uno spettacolo che però ha delle novità in quanto al centro abbiamo voluto mettere il valore dell'arte come mezzo per superare le discriminazioni sia sociali sia rivalità e quindi abbiamo dato a questo spettacolo un'interpretazione un po' diversa che spero possa piacere e possa entusiasmare. Da segnalare la partecipazione allo spettacolo delle scuole Atmosfera Danza e Santeria Salsera. Tutti gli artisti coinvolti nello spettacolo partecipano a titolo gratuito. Nella sua rubrica settimanale Sergio Talenti ci parla di un doloroso caso di innocenza fiscale. Un artigiano lucchese in coma da 10 anni è stato sanzionato dall'Agenzia delle Entrate per una somma di 74.312 Euro, pari al 3% del risarcimento danni per un incidente subito e per altri mai riscosso. La famiglia ha dovuto fare ricorso per evitare la beffa, quella cioè di pagare un'imposta di registro su una somma mai percepita. È una notizia affittata questa settimana che però pochi hanno commentato. Eppure interessa a molti perché svela la forza oppressiva esercitata dallo Stato sul contribuimento debole, cioè quello che non ha mezzi per difendersi. E c'è un particolare meccanismo che sta alla base di questa forza oppressiva ed è il cosiddetto onere di prova. Un onere che spetta non allo Stato che ti chiede soldi ma al contribuente che deve pagare. Per cui alla fine della fiera è il contribuente stesso che deve dimostrare se ne ha mezzi la propria innocenza fiscale. È accaduto per l'artigiano in coma che in questo caso ha potuto evitare la beffa dopo il dolore, sia pure in modo del tutto inconsapevole considerando lo Stato infelice in cui si trova. Ma quanti contribuenti hanno il coraggio di opporsi al potere invisibile ma mai neutro dello Stato? E quanti soprattutto hanno i mezzi per assumere un professionista e chiedere giustizia? Anteprima nazionale a Lucca per il Don Milani di Eraldo Affinati. Grazie alla fondazione Mario Tobino, lo scrittore romano e fondatore della scuola Penny Virton ha presentato a Palazzo Ducale il suo ultimo lavoro, l'uomo del futuro sulle strade di Don Lorenzo Milani. La Penny Virton è una scuola di lingua italiana gratuita aperta a tutti che offre un insegnamento complementare rispetto all'obbligo scolastico alla formazione professionalizzante. Aperta a Lucca da un anno prevede incontri tenuti da insegnanti come attività volontaria che si svolgono a Lagorà grazie al Comune di Lucca. Pranzi o cene a pagamento in case private, la moda si sta diffondendo rapidamente anche nella nostra provincia. Lo racconta il nostro Sergio Talenti alla trasmissione parlando con Stefano Benedetti, ristoratore e presidente provinciale della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Un fenomeno che deve essere urgentemente regolamentato per evitare concorrenze illecite, rischi sanitari e anche evasioni fiscali. Parlando con ovviamente in programma sabato 27 febbraio. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento con Dillo in sintesi, la serie di incontri dedicati alle brevità intelligenti. L'incontro in programma sabato 27 febbraio alle 16.30 a Palazzo Ducale vedrà protagonista il noto giornalista televisivo Paolo Del Debbio che parlerà sul tema Dillo chiaro, semplice e veloce in tv, se no la gente cambia canale. È tutto per questa prima parte della Tg, adesso c'è la pubblicità e subito dopo arrivano le notizie sportive.